E' il tuo grande giorno, è l'ora di dirtelo, so che è difficile per te, ma oggi voglio solo dirti E i complimenti, è una grande festa, non so se lo sai, ma tu fai più un premio, e i complimenti, è un grande giorno Pronto qui Casa Flames, se è Telecom non vogliamo nulla, alle Clasher, alle Clasher Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Cardo di 2Flames Team e oggi siamo qua in una nuova reaction Ciao a tutti ragazzi, c'è anche lui, a caso Oggi facciamo la reazione a un canale YouTube che a noi sta molto a cuore, vero? Infatti si chiama Ale Clasher, ragazzi 13 anni, eccolo qua con le sue bellissime cuffie, seguitelo su Instagram Noi ci sta paghando, non ci sta facendo nulla, ma siamo noi perché è il nostro Чita, ci fa video belli, quindi Si, poi anche in questa nuova postazione con il nuovo microfono No basta, basta, che tu me lo sporti questo microfono Visto che lui è molto schematico, cioè, vuole anche che i video siano editati molto bene Altrimenti lui fa Qualitosi qualitosi i qualitosi eccolo vediamo il video più popolare quindi noi andiamo sulla sezione video di Alec Clasher Alec Clasher e andiamo su ordina per i più popolari 6000 tipo si adesso si sta caricando la page guardate quante cose con più visual è la piscina youtube deve sputare sopra quel video è uno schifo unico unico eccolo qua aggiornamenti alla mia postazione da gaming anche noi abbiamo una nuova postazione da gaming l'ore del futuro cardo del futuro fai vedere la postazione da gaming mentre stai montando questo video eccolo qua partiamo bene unico che spegna e unico 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 ti ha vagato tre tre due uno allora hai vagato tutto ragazzi hai vagato yeah devo ridurre un po' la qualità scusate unico qualitoso anche noi guarda guarda siamo fratelli 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 gemelli fratelli di luce di bittorio non ci cagherà manco di striccio infatti ci scommetto la vita comunque noi andiamo avanti dalla mia sinistra mi è arrivato un pacchetto che desideravo tanto avere ovviamente con il libro di amazon perché con il libro di amazon ma noi siamo furbi e abbiamo amazon amazon tarocco dalla a alla o infatti pacchetto su amazon yeah ok no su amazon su amazon su alibaba.org yeah su china.i vendono anche i bambini su alibaba.org quindi ho preso questa che sarebbe la tastiera color diciamo economica perché mi andava di spendere ovviamente 130 euro per una tastiera chi c'ha voglia di spendere 134 euro infatti chi c'ha voglia prendi questo qua del portatile prendi un martello ah ma dove c'è Farturo ma dove c'è Farturo ah no ah lo rompi ma di picchia Farturo sai come è lui no è molto schematico poi tornerà Farturo si ah è già tornato nel 2020 ma anche questo video lo vedranno nel 2020 guadanno guadanno 202 0 yeah che versi da muncione mamma mia che video cringe si mai è quasi tutto illuminato nella mia postazione che andremo a vedere tra l'altro questo video vai voglio vedere la tua postazione oppure farò due video semplici oppure farò due video semplici 15 like o 20 guarda mi continua a fatti qua 50 visto che tu ci stai molto a cuore e non sto a prendere 527 no grande si si forza così Ale Clasher ma do quanto son contento per registrare questo video ok c'è c'è eccole lì lì i primi tre che indovineranno avranno la pubblicità e il saluto nel prossimo video non sono nel mio studio troppo tardi ragazzi per il semplice motivo che facciamo come fanno gli altri cioè copiamo allora andiamo un po' su andiamo un po' su quindi semplicemente lo faccio qua e non mi hanno fatto vicino alla ciotola se non l'hai già messo mi raccomando lo sappiamo tutti che sei povero ah 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 ma dai no povero like 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 forza l'ho lasciato prima ah 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 si l'ho lasciato prima si l'ho lasciato prima e infilzarlo semplicemente povero canto no ecco impara da yakidare è vero dai è bravo in editing è molto bravo in editing dai ci vieni vicino qua in bambolito inizia a traccolare vieni qui madonna tra la luce nell'in vai cosa vuoi dire parla piano così sembra ASMR lui odia gli ASMR voglio dire che hai una bella posizione ti stimiamo molto e ditti bene non so se mai vedrai questo video non so neanche mai se infatti farai la reaction a tutti questi video parli bene questo video è troppo cringe quindi molto cringe non dissarci in un video per favore ti prego ti vogliamo bene non mettere dislike e a tutti i pubblici a tutti quelli che seguono Alec Clasher se mai farà la reaction anche noi usiamo Filmora anche noi usiamo Filmora9 esatto quindi non sei l'unico like a questo video grazie ci stavamo per dimenticare una cosa molto importante cioè che noi abbiamo fatto abbiamo scritto un messaggio su instagram a Alec Clasher infatti ragazzi fa male la schiena sono un vecchio non ci risponderà neanche il ragazzino felice ma purtroppo sto registrando con questo microfono quindi ahah lo vedremo dopo vediamo dopo le video non saltate il video eh non saltate il video guardatelo tutto altrimenti mi uccidiamo facciamo la reaction all'ultimo video di Alec Clasher vediamo cosa fa questo mero ragazzo questo ragazzino allora l'abbiamo visto tu ecco guardiamo mi insulta in un video è una bella intro però speriamo che ci metta nei canali così andiamo dritto al punto scusale Alessio ecco oddio andiamo a cercare chi conosce meglio edizione speciale con Sasha stava guardando questo che si vuole aspetta ma perchè esce alle Clasher Favige Favige mi insulta in un suo video questo invece è uno mi insulta in un suo video allora andiamo a cercare la verità su Ale staccato Clasher ed ecco lo sappiamo già è un figo con la mia copertina ha un brufolino sul naso poverino su una visual 15 minuti fa dai andiamo facci sentire cosa ne pensi io a volte sto perdendo il video e dirò la mia vai ciao a tutti ragazzi benvenuti ma le Clasher non è staccato no le Clasher non è staccato no le Clasher non è staccato cioè oggi siamo tornati con un nuovo video ragazzi oggi e dai diciamo un po' la qualità va cos'era se dice si era milottato come il carichiamo noi i video ah no te lo guardo troppo video diverso dal solito quello di niente ma Minecraft o Clasher si va bene abbiamo capito ok siamo tornati dopo un breve taglio perché si era stoppata la registrazione di questa infatti siamo tornati più forti più carichi di esatto ok andiamo avanti andiamo andando guardare alle Clasher andiamo a continuare continuiamo ovviamente mi ha fatto tanto riflettere su come siano redotte certe persone come è stoppato quello come è perché si appunto Lore no è un campione nel stoppare le immagini lo so quando edita i video che stoppa a me mi edita con la faccia faccia facerà da imbecil fai un esempio ecco appunto ma guarda come fai c'hai un tono si però questo tizio qui questo tizio qua con la faccia bellissima bellissima con naso non insultare alle Clasher cioè non serve a nulla mi piace fare i video anche lei piace fare i video cioè noi non stiamo insultando nessuno anzi no noi siamo bravi gentili conti si si noi siamo brava gente bravi cittadini però se ci attaccano se voglio dire una cosa da mia ehm non te la devi prendere perché ehm Ale non non ti risponde perché e non voleva magari perché anche lui avrà dei motivi validi credo no a me non ce li ha non ha motivi validi per a me sono geloso ma stai dicendo Ale o no dico questo qua che lo disse no ma io stavo dicendo che Ale ehm gli ha detto di no perché aveva dei motivi vari si 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 è vero mi sto rivedendo un colpo no 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 come fai ad avere delle idee opposte tu ti stai ribellando al clan di Ale Clasher ok visto che Lorenzo si è ribellato al clan di Ale Clasher noi continueremo la nostra reaction mi chiedo però di non offendere me e di non andare a offendere lui ovviamente non offendere lui si si è ovvio allora aspetta no io non voglio insultare questo ragazzo non voglio insultare neanche Ale assoluto noi nessuno noi siamo pacifici anzi se volete fare un video con noi no perché tanto però dico perché l'avrà fatto questo po' cioè che l'avrà insultato Ale Clasher no non l'ha insultato guardiamo la sua chat visto che mi ricordo che Ale ha fatto vedere la sua chat si si con lui ecco tipo qua vediamo se l'ha stoppato bene io sono un campione di stop di stop lui praticamente inquietante ecco ecco allora guarda come l'ha ridotto ecco qua allora partiamo dall'inizio allora qua lui ti sta spiegando io vi lascio il video qua ecco allora mandami il canale e lui ha mandato una faccina sorridente ok gli ha mandato il canale minecraft it hashtag 1 una piramide è già un cavallo sorry ma no non monti video è vero è vero andiamo a vedere è vero poi dice ma guarda che li monto poi a te cosa ti cambia e vabbè se non monti video non monti video te lo fai video come quando fai video normale si esatto non li edita non fai tagli e io gli ho risposto di no perchè secondo me non è uno youtuber qualitoso amo questo effetto qualitoso è troppo ma per te aaah nello sfondo dai noi la dobbiamo mettere un attimo facciamo così vai facciamo vai qualitoso lori del cardo del futuro ti stiamo complicando la vita cioè sarai io io sono Ale io monto i video io monto i video io monto i video non sono capace lui lui non è capace lui non fa un cazzo ok dei video qualitosi grande lo un applauso per Lore grazie andiamo avanti va vai ecco allora non è in qualità poi almeno non ci penso poi Ale qua manda manda il video qui manda l'audio poi ieri ti pensavo diverso aspettati il video la verità su Ale Clasher allora noi andiamo a vedere la verità su Ale Clasher è stato inferi due secondi no dai non dobbiamo dissare allora la verità su Ale Ale Clasher staccato ricordati ehi lui a notare che ecco Ale Clasher quante visual sarà ehi non c'è lei che l'ha eliminato ah e perchè mi ha mi ha messo il coso staccato scusami non Greta Thunberg su Ale Clasher l'ha eliminato allora l'avrà eliminato ragazzi si si perchè l'ha dissato l'ha eliminato mi sembra che poi l'ha detto nel video che l'ha eliminato poi l'ha eliminato dico io magari l'avrà messo in bio se questo video vi fosse vissuto lasciate un bel like ecco mi hanno scritto ha eliminato il video ha eliminato il video ragazzi ha eliminato il video ha eliminato proprio il video si vedeva chiaramente e quindi ragazzi speriamo che il video vi sia piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale di Chuflimsteam date un occhio anche al canale di Ale Clasher che per noi merita tanto anche ai suoi canali stiamo facendo pubblicità gratis ma noi non ce ne frega c'è tanto noi facciamo pubblicità che ci piace esatto quindi un like questo format si chiamerà apriamo gli occhi su altri youtuber apriamo gli occhi su altri youtuber con questa vediamo se vi piace scrivete nei commenti anche se lo so che risponderà solo margherita bellocchio ti salutiamo margherita bellocchio ciao maggie ciao maggie maggie scusa maggie chiamiamo è proprio youtuber molto serio lasciate il like iscrivetevi noi ci vediamo al prossimo video dal microfone nuovo dal microfone nuovo ciao 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 ciao